La leadership verrà da sé, la leadership non è discutibile oggi, la leadership verrà da sé, verrà nelle piazze, verrà dagli italiani e quindi non la deciderà né Salvini né nessun altro. Chi guiderà la coalizione comunque si chiamerà, lo decideranno gli italiani, non sarà un esperimento a tavolino. Io sono sempre favorevole a interpellare i cittadini.